Fermiamo il cambiamento climatico. Non c'è un pianeta B. Con questo slogan sono tornati anche ad Alessandria gli appuntamenti del Fridays for Future. Un centinaio di studenti delle scuole alessandrine hanno così marciato per le vie del centro chiedendo un pronto intervento ai governi mondiali per tentare di fermare i cambiamenti climatici. Minori emissioni di elementi inquinanti nell'aria, un maggiore rispetto delle biodiversità, ricerca di energie rinnovabili sono solo alcuni dei punti toccati nel corso della manifestazione partita da Piazza Marconi e proseguita lungo Piazza Garibaldi e via Cavour per far tappa davanti a provincia e comune. Il corteo poi si è concluso in Piazza Marconi dove era partito con alcuni interventi dei ragazzi.